Questo tipo di bottone non ha fori ed è già provvisto di gambo. In questo caso non è necessario lasciare spazio tra bottone e tessuto. Fissate il filo al tessuto nel punto in cui applicherete il bottone. Passate l'ago nel foro e inseritelo nel tessuto. Ripetete questo passaggio per due e tre volte. Fermate il filo alla base del gambo del bottone e tagliate la parte cedente.